Il motto è quello di chiedere città che siano amiche del clima e della natura. Le città vanno ripensate perché noi possiamo avere una mobilità sostenibile, perché possiamo godere del verde pubblico e possiamo avere un maggiore benessere in quello che è un ambiente dove passiamo tanto tempo. Le nostre città devono diventare amiche della natura e del clima. Con questo messaggio è stata presentata la quinta edizione di Urban Nature. In Abruzzo si svolgerà domenica 10 ottobre e coinvolgerà i capoluoghi di provincia e non solo. Nel corso delle iniziative famiglie, bambini, giovani, studenti ed appassionati di natura daranno vita ad azioni concrete per tutelare, valorizzare e incrementare la biodiversità urbana. L'iniziativa è promossa dal WWF in collaborazione con FIAB, CAI, Pronatura e Carabinieri Forestali. Tutte e quattro i capoluoghi di regione è l'Aquila che ospiterà l'evento regionale, Pescara, Teramo e anche Chieti, Lanciano e Ortona. Le nostre città ospitano tantissime specie di animali e di piante che possiamo imparare a conoscere e Urban Nature è l'occasione. Presentato inoltre il nuovo Depliant Informativo che contiene informazioni molto utili per diffondere buone pratiche di comportamento per una convivenza possibile tra uomo e fauna selvatica. L'opuscolo di oggi vuole raccogliere alcuni consigli di possibile convivenza tra l'uomo e la fauna selvatica. Quindi ci sono consigli, per esempio, se si dovesse avere la fortuna di incontrare un orso oppure su come comportarsi in caso di avvistamento di lupo o ancora per come soccorrere gli animali che troviamo in difficoltà. Tutti insieme in un piccolo opuscolo del WWF Abruzzo.